Una situazione desolante che non ha intenzione di migliorare questo e ciò che vivono da lungo tempo gli agenti di polizia di Lecce che anche quest'anno si ritroveranno ad affrontare il mese di giugno senza un numero adeguato di personale. A denunciare la criticità è il SAP, sindacato autonomo di polizia che evidenzia che sono solo otto gli agenti che sono stati assegnati alla questura di Lecce dal Dipartimento della Polizia di Stato a fronte di ben 50 unità in vista del pensionamento. Il sindacato ha sottolineato quanto la situazione sia ormai insostenibile a causa dei troppi servizi al netto, dei pochi rinforzi predisposti. Si riesce a malapena garantire un numero sufficiente di volanti disponibili a pattugliare il territorio 24 ore su 24. La speranza è sempre la stessa che il Ministero dell'Interno riconosca la questura di Lecce come meritevole di strutture logistiche, mezzi e risorse umane adeguate ad affrontare le innumerevoli situazioni di ordine e sicurezza pubblica. Inoltre, tra le vicende considerate spinose e irrisolte, ci sarebbe anche quella relativa alla nuova sede della questura che il sindacato definisce una fiaba senza fine dal momento che ogni buona intenzione non ha mai ritrovato riscontro nel tempo. Grazie